ciao a tutti da maurizio benvenuti su recensito oggi parliamo di scarpette tecniche e lo facciamo grazie a tcx rush appunto una scarpa tecnica pensata per il motociclista sportiva aggressiva ma non eccessiva perché potete vederlo ha un bellissimo design sembra quasi una scarpa da guida auto è davvero un prodotto interessante e per l'occasione vi ho portato il prodotto nuovo e poi eccolo qua il prodotto usato anzi stra usato perché queste sono proprio le scarpe che utilizzo quando faccio il passeggero di sidecar e poi quando mi alleno con la pit bike o con la mini gp come potete vedere i segni di un anno di prove di teste di gare sono tanti è una scarpa che ha subito diversi traumi qualche caduta qualche scivolata e poi guardate davvero un test di abrasione perché quando sono ancorato al carrozzino del sidecar in staccata vado senza volerlo a grattare sull'asfalto e quindi dopo un anno pensate di staccate sull'asfalto ha iniziato pian piano a consumarsi soltanto nell'ultima gara poi se addirittura aperta un test proprio sul campo è una scarpa che ho apprezzato tantissimo perché offre un'ottima sensibilità e sul sidecar serve un'ottima mobilità ma anche una grande protezione perché come potete vedere nonostante poi le cadute e anche qualche ruzzolone ha resistito molto bene e non si è scalzata perché poi il problema della scarpa che non si deve assolutamente scalzare poi lo vedremo grazie soprattutto al tipo di allacciatura ma andiamo a descriverla dicevamo ricordiamo protezione mobilità e sensibilità questo è quello che ho potuto testare sul campo e quello che ho riscontrato con l'utilizzo tcx rush è una scarpa con omologata e quindi n 13 634 2010 più aggiornamenti 2015 ultimamente indico anche il tipo di omologazione perché in tanti ce lo chiedono quindi è giusto dirlo tcx rush fa parte di una gamma di prodotti davvero molto vasta che tcx ha in particolare la 24 su 7 quindi una un prodotto che si può utilizzare sempre e ovunque come dice appunto tcx in particolare fa parte della linea performance poi abbiamo la linea city la linea lifestyle come potete vedere abbiamo anche prodotti dedicati per chi invece fa un utilizzo quotidiano e magari ha una moto più tranquilla una moto caffè racer tcx lo abbiamo detto ha una linea completissima quindi off road touring racing trial vintage e addirittura poi una linea dedicata alle ragazze alle motocicliste ma andiamo a descriverla allora intanto la tomaia prendo la scarpa nuova per per mostrarvelo abbiamo microfibra opaca soft touch davvero una bella sensazione non soltanto la vista perché è bella da vedere ma anche al tatto è molto piacevole poi pelle scamosciata eccola qui tutti questi materiali sicuramente offrono una buona resistenza ma anche una buon un buon grip quando si è a contatto con la moto o anche con lo scooter perché è una scarpa che si può utilizzare benissimo anche sullo scooter e quindi offre una buona aderenza e una buona resistenza anche sul tunnel centrale dello scooter per esempio poi mesh interno collarino come è fatta la tomaia intanto abbiamo una serie di micro fori come potete vedere ok quindi tomaia traforata più delle prese d'aria che le troviamo qua ok è sicuramente una scarpa indicata per l'estate la primavera e i primi mesi dell'autunno oppure per anche l'inverno come in questo caso che non ha fatto molto freddo nei primi mesi dicevamo scarpa c'è ma che diventa anche un dispositivo di protezione individuale questo non è così scontato per concludere sulle caratteristiche abbiamo intanto la chiusura chiusura di due tipi abbiamo chiusura con l'allacciatura ok bella alta ovviamente la scarpa che deve proteggere e poi chiusura con il velcro chiusura non troppo invasiva non è troppo pacchiana ci piace la forma è ben riuscita protezioni quali abbiamo ovviamente una scarpa certificata quindi protezione in punta qua quindi è impossibile che si schiacci protezioni sui malleoli esterna ed interna e poi la protezione sul e il tallone dicevamo scarpa omologata quindi una scarpa che resiste all'abrasione allo schiacciamento perché questo è molto importante quando la scarpa quando cadiamo malagoratamente la moto o un oggetto pericoloso potrebbe schiacciare il piede in questo caso è una scarpa che resiste allo schiacciamento plantare anatomico e removibile eccolo qua lo tiriamo fuori lo facciamo vedere vedete anatomico un bel anche un bel materiale l'abbiamo in un anno di gare abbiamo preso anche dell'acqua e quindi l'interno ha resistito molto bene la scarpa è stata poi lavata e come potete notare ha resistito sia all'interno sia la parte esterna suola alta resistenza all'usura adesso vi faccio vedere guardate la scarpa nuova e la scarpa usata guardate dopo un anno di gare guardate come è rimasta come il la suola ha comunque resistito ed ancora un bel aspetto ultime cose da dire cosa troviamo nella scatola andiamo subito a vederlo troviamo ovviamente le scarpe che ho appena estratto e poi come ho indicato sulla lavagna troviamo anche dei nuovi lacci fluorescenti in tinta con il resto della scarpa quindi c'è anche questo piccolo omaggio di tcx il peso della scarpa dichiarato di 490 grammi e le misure vanno dalla 36 alla 48 i colori abbiamo il nero quindi total black oppure come in questo caso abbiamo il bianco nero e rosso che poi è un arancione quasi importante da dire c'è anche la versione waterproof quindi se pensate di utilizzare la scarpa perché no per qualche lungo viaggio anche d'estate quando si prendono gli acquazioni o in autunno c'è la versione waterproof ed è disponibile in due colorazioni quindi nero e poi il nero e giallo fluo davvero anche questa una colorazione ben riuscita di sostanzialmente un giallo come questo dei rt race altro buonissimo prodotto ve l'abbiamo mostrato è un altro prodotto che utilizzo in gara il prezzo per finire 119 euro e 99 prezzo interessante per un prodotto come questo ben rifinito e tecnico non mi rimane che salutarvi e invitarvi ad andare a visitare il sito che è www.tcxboots.com dove troverete tutta la gamma di tcx molto chiara divisa per categorie quindi qualsiasi cosa vi può interessare la trovate facilmente e poi se non sono stato chiaro se avete dei dubbi scrivetemi e vi risponderò con piacere il mio invito è quello di continuare a seguire i nostri canali social quindi facebook instagram e poi i nostri canali youtube di auto e di moto che sono sempre ricchi non solo dei video di recensito che sono sempre di più ma anche tutti i video le prove delle auto e delle moto dei miei colleghi io vi saluto e vado a testare un altro prodotto per recensito ci vediamo alla prossima puntata ciao